8 riprese di fuoco non bastano a Marvin De Mollari per espugnare lo stadio di Castelfidardo. La finale del trofeo delle cinture War Boxing Council Pesi Leggeri si conclude con una discussa sconfitta, resa particolarmente amara dalla sua ottima prestazione, che non è stata sufficiente per battere il beniamino di casa Charlie, Metoy e Pon. Una tribuna riempita da quello che consentono le misure di sicurezza segue il match con trepidazione e accoglie gli sfidanti con un tifo assordante. Il combattimento è frenetico, non ci sono le fasi di studio. Demollari assume l'iniziativa ed imposta il match sulla corta distanza, quella lui prediletta. Demollari è indomabile, un guerriero, Metoy e Pon, pur non riuscendo a scrollarsi di dosso la pressione del pugile lucchese, riesce con astuzia ad espedienti a non essere travolto, ostruendone gli attacchi, come continuerà a fare per tutta la durata dell'incontro. L'arbitro preferisce optare per una conduzione di gara improntata sull'interrompere l'azione il meno possibile. Dalla quinta ripresa il pugile di casa si rende più propositivo alzando il ritmo e il numero, fino a quel momento esiguo, di colpi al bersaglio. Inizia così uno scontro infuocato in cui nessuno dei due contendenti vuole concedere niente all'avversario. Entrambi i pugili trovano più aperture nelle rispettive guardie, anche a causa della stanchezza dovuta ad un incontro molto fisico, che richiede un grande dispendio di energie. Il finale è concitato e senza esclusione di colpi, coi due pugili che non si risparmiano fino al gong che ne sancisce la conclusione. L'esito è incerto. Pugili, ma anche tecnici e pubblico, attendono il verdetto col fiato sospeso. Alla fine a portare a casa, con verdetto non unanime, la cintura del trofeo è Charlie Metoyekpon, premiato per il proprio crescendo nel corso dell'incontro, a dispetto dell'inizio scoppiettante e la continuità di De Mollari. Disappunto dei tifosi lucchesi, che lo hanno seguito e supportato in gran numero nella trasferta marchigiana. Deluso anche il maestro Giulio Monselesan, come sempre all'angolo di De Mollari, dalla decisione dell'arbitro di sorvolare sulla condotta di gara sporca, tra virgolette, dell'avversario, che avrebbe influenzato pesantemente lo svolgimento dell'incontro.